Beh, insomma, qua nella strada da Tsukiji a Ginza ce ne sono poi di ristoranti di sushi finché volete. Qua per esempio ne ho trovato anche un altro che mi sembra leggermente meno caro. E poi volevo farvi vedere anche questo che merita un po' di copertura perché un menù scritto in italiano, corretto, non si trova facilmente qua a Tokyo. E' proprio qua, il taverna, quale bar. Qua siamo a... E' sulla strada che da Tsukiji va a Ginza. Non chiedetemi dove di preciso perché non lo so.